Massima incertezza, ma nessun rinvio a gennaio, almeno per ora. La Corte Costituzionale, superate le questioni di ammissibilità, continuerà domattina dalle 9.30 l'esame del ricorso contro la legge elettorale, in Camera di Consiglio, dove si è ritirata oggi dalle 17 alle 19, dopo aver ascoltato la relazione del giudice Tesauro e le ragioni dei ricorrenti contro il Porcellum, in testa l'avvocato Bozzi, che con una causa civile avviò l'iter che ha portato davanti alla Corte. La consulta è chiamata a stabilire se il premio di maggioranza, che scatta senza una soglia minima di voti, e le liste bloccate, che tolgono ai cittadini la possibilità di esprimere una preferenza tra i candidati, siano costituzionali o no. I giuristi si sono esercitati a lungo sul ventaglio di possibilità che ha la Corte, chiamata a un giudizio che non ha precedenti e che potrebbe, nei fatti, scrivere la nuova legge elettorale, cancellando la vecchia, che fu votata dal centrodestra nel 2005 ed è stata poi criticata da tutti i partiti, che però non hanno mai trovato l'accordo per cambiarla. La consulta potrebbe cancellare del tutto la legge, cosa che determinerebbe il ritorno in vigore della legge precedente, il mattarellum, con leggi di nominali maggioritari per il 75%, 25% di quota proporzionale. Ma la Corte potrebbe anche intervenire solo sui punti oggetto del ricorso, in particolare, visto che l'intervento sulle liste bloccate appare più complesso, sul premio di maggioranza. Se lo cancellasse, si determinerebbe una legge proporzionale, come nella Prima Repubblica, sia pure con le soglie di sbarramento.